Così presto, tra poco già si cena, vorrei averti qui, invece sei lontano. Il capitolo da cantante solista del gruppo Vernice, che raggiunse il successo nei primi anni 90 con la produzione di Claudio Cecchetto e due singoli It, Su e Giù e Scema, è chiuso ma ora per Stefano Dorazio. Si apre un'altra strada, una nuova avventura, così come la cifra della sua esistenza, vissuta senza troppe regole e senza altrettanti limiti, ma che adesso l'artista vuole riprendersi. Lo fa scrivendo un brano, un nuovo singolo prodotto dall'RGB, dal titolo evocativo Io sto aspettando. L'abbiamo incontrato a Napoli al Caffè Gambrinos in una pausa di un serratissimo tour radiofonico. Beh io sto aspettando che ritorni la vita, quella vita che a 20 anni, 25 anni si vive veramente intensamente e che poi per vari motivi e a volte purtroppo si perde un po' di vista. Allora ascoltando il testo sembri proprio che io stia parlando di una donna, di una bella ragazza, invece in realtà io sto parlando della mia vita, cioè vorrei che ritornasse quella vita magari non spensierata soltanto, però intensa, sicuramente intensa. In Prospettiva c'è un disco con tante altre cazioni che tu hai già scritto. Sicuramente, noi siamo partiti con questo Io sto aspettando, poi quasi sicuramente lo dico ma non vorrei dire una stupidaggine perché poi magari uno può cambiare idea, no? Però forse ci sarà un altro singolo che si intitola Ci vediamo all'inferno, cioè che è proprio il posto dove io sono stato in questi anni e dove ho visto che tanti di noi si ritroveranno lì. Che torni l'estate, la sto aspettando per ritrovare te.